Buongiorno, buon martedì. Allora, sono qui per parlarvi di un'offerta che sarà valida solo questa settimana ma soprattutto di un'iniziativa che è stata lanciata dalla mia concessionaria. Allora, sto parlando di un prodotto che è molto molto conosciuto, molto apprezzato ma che è stato ancora migliorato. E sto parlando delle nostre fantastiche ecobottiglie. Premetto, lasciate perdere i colori, mi raccomando. Le nostre bottiglie, in particolare quella da 750 ml e quella da 500 ml. Entrambe hanno il tappo a vite, quindi vuol dire che in queste bottiglie potete mettere anche cose gasate ma mi raccomando non riempitele fino all'orlo. Lasciate comunque un pochino di spazio perché il gas preme e potrebbe succedere che magari fuoriesce qualcosa. Non mi è mai successo, però non si sa mai, io ve lo dico. Allora, sapete benissimo che le nostre bottiglie sono ecosostenibili perché sono utilizzabili all'infinito. Si possono lavare in lavastoviglie per una perfetta pulizia. Quando non si usano si conservano sempre aperte senza tappo, onde evitare formazioni di muffe e cattivi odori. Ci potete mettere l'acqua, l'acqua frizzante. Ci potete mettere il tè, freddo. Niente bevande calde, mi raccomando, fredde. Il tè, le tisane, gli infusi, l'acqua aromatizzata, i succhi di frutta, le spremute, il latte, il vino, tutto quello che volete. Ma qual è la novità? Il materiale con cui sono state migliorate. Praticamente adesso questa promozione riguarda queste bottiglie nel materiale Eco Plus. Ve ne ho già parlato perché è lo stesso materiale con cui sono fatte le nostre Eco Cannucce e anche i nuovi Porta Merende. È un materiale completamente ottenuto dal riciclaggio di tutte quelle plastiche che altrimenti non potrebbero essere utilizzate, riciclate. E quindi finirebbero negli inceneritori, inquinamento, nelle discariche, inquinamento, nei mari, nei prati, ovunque. Perché vengono abbandonati in ogni dove. Sapete che da sempre Tapperware è molto attenta all'ecosostenibilità. Il nostro motto è ricicla e riusa proprio all'infinito per combattere proprio la plastica usegetta. Queste bottiglie appunto sono fatte in Eco Plus, quindi è un materiale altamente tecnologico che abbiamo solo noi, completamente privo di qualsiasi sostanza tossica. E quindi sono ancora più ecosostenibili di quelle che abbiamo già. Questa promozione comprende due bottiglie da 750 ml col tappo a vite e due bottiglie da 500 ml col tappo a vite. Poi vi manderò il volantino per vedere i colori giusti. In pratica acquistando due bottiglie da 750 ml ne ricevete due da 500 in regalo. Quattro bottiglie a soli 32 euro anziché 60 e facciamo felice tutta la famiglia. Ma la cosa bella qual è? È la nostra iniziativa. Non so se vi ricordate che l'anno scorso, siccome questa è la settimana dell'acqua, la mia concessionaria ha donato le bottigliette alle infermiere del reparto di patologia neonatale dell'ospedale di Bergamo. Vi ricordate che vi avevo condiviso anche le foto. Quest'anno, per ogni set venduto, la mia concessionaria donerà 50 centesimi all'RSA di Sarnico. Perché l'RSA? Perché, ahimè, da un anno il suo papà è lì ricoverato. Ovviamente lei ha preso questa come punto di riferimento. E cosa vorremmo riuscire a fare per questi nonni? Ovviamente dargli ciò di cui hanno bisogno e magari riuscire anche a creare la stanza degli abbracci. Sapete bene che tutti quelli che hanno un nonno, una nonna, una mamma, un papà in queste strutture, da un anno a questa parte non si possono neanche abbracciare. E il nostro sogno sarebbe proprio quello di poterli aiutare a realizzare questa stanza. Per cui chiedo il vostro aiuto per far sapere a tutti di questa bellissima iniziativa e riuscire a raccogliere più fondi possibili. Queste offerte varie da solo questa settimana. Vi ricordo ancora, 4 bottiglie 32 euro anziché 60, 2 da 750 e 2 da 500, ma soprattutto raccogliamo i fondi per questa struttura. Io ci tengo veramente tanto, sono sicura che anche voi mi aiuterete. Che altro dirvi? Viva le ecobottiglie che sono fantastiche, chi ce le ha me lo può confermare e chi non ce le ha smetta di comprare quelle usa e getta perché non vanno mai riciclate, perché una volta che le avete utilizzate vanno buttate, rilasciano bisfenolo che è una sostanza cancerogena. Tupperware non usa bisfenolo da tanti anni, per cui passiamo a Tupperware, accontentiamo tutta la famiglia e sosteniamo questa struttura. Grazie a tutte, ciao!